Bentornati ragazzi sul canale di Geek Next Gen, siamo nuovamente qui con i Cavalieri dello Zodiaco, Soldier Soul. Allora, nello scorso episodio abbiamo affrontato il Cavalieri dei Gemini, quello dell'Acquario e Cancer. Oggi ragazzi siamo qui per affrontare Ioria, nella Casa dei Leone quindi, e con Pegasus. Ragazzi io spesso vi sto facendo, cioè sto saltando le scene, perché comunque presumo che chi segue la serie di Cavalieri dello Zodiaco a chi piacciono, comunque conosco almeno la saga del Santuario, perché l'hanno trasmessa tante volte in televisione con i cartoni animati, ecco perché la sto saltando. Le altre saghe invece che sono Asgard, Ares e Nettuno, non le salterò, quindi seguiremo la serie completa. Se comunque volete che anche questa serie del Santuario non la salti, quindi vi faccio vedere anche i filmati di intermezzo, commentate sotto. E quindi vi lascio vedere anche i filmati della serie. Vi sto saltando perché do per scontato che almeno questa qui, delle 12 case, dove più o meno tutti l'abbiamo vista, o da piccoli, o da più ragazzi, perché l'hanno trasmessa tantissime volte in televisione. Dunque ragazzi, ci vediamo subito ora nello scontro contro Ioria del Leone. Ok ragazzi, eccoci giunti nello scontro contro Ioria. Guardate subito fortissimo Ioria. Fulmine di Pegasus, ma è più veloce. Ecco qua, facciamo subito una mega presa. E iniziamo a potenziarci. Fulmine di Pegasus immediato. Qua si vince colpi. Andiamo ancora. No, 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 no. Andiamo, andiamo subito, colpiamolo, 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 colpiamolo. Dobbiamo farcela ragazzi. Immediatamente. Troppo in anticipo il Fulmine di Pegasus di nuovo. Andiamo ora col Fulmine di Pegasus 3 proprio. Dobbiamo attaccarlo, Ioria è fortissimo, è uno dei quadri più forti nel... Il Fulmine di Pegasus è stato animato nel manga, quindi va subito attaccato. Vediamo se con queste riesco a prendere il nome. Guardate, ragazzi, come? A Cappo in gesto ne ha fatto. Andiamo subito colpiamolo di Pegasus. Me l'ha schivato, guardate quanto è bastardo. Andiamo subito da Oletico, come? Oh, mi ha anticipato. Ha anticipato le mie intenzioni. È ancora Fulmine di Pegasus. L'ho preso di pochissimo. È forte, ragazzi, è forte. Guardate, mi sta dando pilo da toccere. Mamma mia, ragazzi. È fortissimo, è fortissimo. Andiamo se riesco a fare il culo di Pegasus finale, sì. Ragazzi, il livello A non lo sono riuscito a prendere. Perché Loria è stato un avversario turissimo da battere. Non avrò mai dato il livello di Vittoria A. Molto forte Loria. Il primo vero avversario ostico. Ti chiedo di... Ah, ecco qui. Non può uccidere Pegasus. Ma ha tutte e due le orecchie? Sì, Cassius dovrebbe... Non avere una eche perché Pegasus dovrebbe averlo staccato. Vabbè, dettagli. Che ragazzi, probabilmente combatteremo con Cassius contro Ionida. Ah, no, perché poi si mette di mezzo Pegasus. Quindi siamo di nuovo... Se lo sconfiggi facilmente a Cassius, ovviamente. Sì, però il tasso L1 dovrebbe essere per parare, ma non para un cazzo. Guarda, grande mossa, subito. Facciamone un bel pugnone di Pegasus. Cioè, ora si è anche potenziato, quindi è ancora più forte. Pugnone di Pegasus da qui. Bella mossa questa. Vediamo subito... Andiamo a mossa di Pegasus. Ancora, me l'ha parata, guardate. In che maniera... Ecco qua, lo prendiamo di contropiede. Potenziamoci, potenziamoci, come vedi, perché sa, vuoto totalmente. Ok, ragazzi, mi ha... E' stato molto probabile nel... Schivare il pugno di Pegasus, Sergio, purtroppo, effetti questo. Ok, abbiamo il pugno di Pegasus finale, però... Vediamo se riusciamo... No, vieni. E' stato più veloce di noi. Ancora sì, mi ha preso in pieno. Ancora fume di Pegasus. N'ha parato, bastardo. Andiamo... Attenzione. Eh, ce la facciamo. Ce la facciamo a sconfiggerlo. Ma il grado di vittoria... No. Abbiamo avuto 5 stavolta. Ok, Yoria è un'altra parte in se stesso. Quindi non è più sotto il controllo di Ares. L'abbiamo salvato. Allora ragazzi, ecco qui. Questo ora è il prossimo scontro. Cioè, siamo arrivati nella casa della Vergine. Dovrebbe essere la sesta. Siamo con Virgo e useremo Fenix per combattere Virgo. Uno dei più forti Cavalieri d'Oro. Di tutti e 12. Se non il più forte. Eh, guardate, siamo andati qui tutti e tre contro Virgo, ma... Non riusciranno a fare molto. Anche perché Fenix ti farà passare per combattere Virgo. Vedete, Virgo ha gli occhi chiusi perché... Se li apre, distrugge tutto. Vedete, li sconfiggi tutti e tre facilmente. C'è un'altra spiegazione che altri Cavalieri non l'ho fatto sul serio. Prattente ragazzi, dopo che sta beffeggiando gli altri Cavalieri, interviene Fenix, il fratello di Andromeda. Manda a segno, non viene cinque colpelli e finisce con la mossa speciale. Poi sono gli obiettivi bonus e le sfide. Ecco qua, guardate, guardate quanto è figo e cazzito Fenix. Ora c'è un altro scontro molto ostico perché la Vergine Virgo è molto forte. Vediamo sui toleali della Fenice. Ecco qui il fantasma diabolico. No, l'ho schivato. Quello il fantasma diabolico, guardate che potenza che c'ha a Fenice, ragazzi. Ancora qui un fantasma diabolico. Vediamo se usciamo le goleali della Fenice. Mamma mia ragazzi, è colpissimo. Anche se, devo dire che Vergine, per ora, secondo me, mi sta facendo sul serio. Non mi ha fatto, non mi ha posto molta resistenza. Qui bisogna andare troppo ad attenzione, mai sopravvalutato. Ed ecco qua, lì della Fenice, proviamo la mossa speciale e ce l'abbiamo fatta. Guardate che bella. Grande colpo, guardate che bella, la mossa finale di Fenice. Ok, l'abbiamo mandato al KO la prima volta. Ho avuto il grado S, vabbè, comunque ragazzi, non è stato difficile come lotta. È stato molto più difficile quella con Yorah, anche la prima volta. Ah, ok, abbiamo tenuto qua anche una sfida. Allora, non ho mai risposto che ne ho avuto un altro delle sentenze. Mi sono cercato di risuaderla, virgo, dal sentire Ales e Fenice, ma ovviamente non ci riuscirà. E nonostante, se mi metto a mettere il suo servizio. Ebbene, rispondi, virgo. Sono erondo l'animo del mio avversario. Riesco sempre a sapere se sei proprio, se sono malvagi o benevoli. Quelli dei grano sacerdote, sono dubbiamente benevoli. Ragazzi qui praticamente discutono, alla fine virgo rimane nelle sue posizioni e Fenice è la sua. Sì, Fenice perde l'armatura, virgo le la toglie, e quindi li combatterà senza armatura. Quindi virgo usa questa mossa per cercare di batterlo. E noi subito andiamo con gli ali della Fenice, con il polpissimo Fenice. E' tutto il polpissimo, non va a segno. Ecco qua, qual è il polpo di Fenice. Ancora il polpissimo di polpo prova a vuoto. Ecco qua, ora si sta attaccando lui. Qui mi sa fare attenzione, però guardate, grande polpo di Fenice. Ricora con il polpissimo di polpo. Ancora colpo diabolico di Fenice. Sono sempre con poche energia ragazzi, però... Ali della Fenice ancora, colpito. Non stavo ponendo molta resistenza, devo essere sincero. E' stato molto facile sconfiggere il Cavaliere nella Vergine, vi do dire la verità. O' è Fenice, un personaggio molto forte, ma secondo me è Virgo che non ha fatto molta resistenza. E' infatti 2-1-1-2-S, ma ragazzi non ci ho messo veramente lungo. Allora, vedo che scatucce questa forza, ovviamente Virgo è rimasto molto colpito dal potere di Fenice. Dovresti sapere di quanto sei stato tu a farmela scoprire. Cosa? Se non l'avessi fatto, non sarei mai stato in grado di battere... Non sarei mai stato in grado di potere di Fenice. Allora, ovviamente qui si lascia bruciare... Lascia bruciare il suo cosmo ed esplode insieme a Virgo. Ecco qui. Qui sta sacrificando la propria vita a Fenice per battere Virgo, perché facendo bruciare il suo cosmo... Potrà sconfiggere Virgo, effettivamente, ma morendo anche lui. Questa è la fine che fa Fenice. Si sacrifica. Quindi Andromeda rimane figlio unico. Ok. Questa è la storia, ragazzi. Ecco qua, vedete Crystal, come vi dicevo, è stato intrappolato da Aquarius in una barriera di ghiaccio, quindi ora è da salvare anche Crystal. Nessuno può fare nulla per salvarlo. Vedete? E appare l'armatura della bilancia, che è del maestro di Sirio, del dragone. E quindi, in futuro, diventerà di dragone. Dragone è colui che è predisposto a diventare il cavaliere della bilancia. Guardate quanto è bella l'armatura della bilancia. Ecco qui, ragazzi, Exilio prende la spada della notte del bilancia che le ha dato il maestro per salvare Crystal. Ecco qui, ragazzi, hanno salvato Crystal. Quindi ora Crystal non è più intrappolato e quindi è stato salvato. Ragazzi, allora Andromeda rimane con Crystal. Ok, ragazzi, allora, nel prossimo episodio avremo la casa dello scorpione, come vedete c'è Milo sarebbe, e con Crystal, perché poi Crystal si riprende e lo scorpione dopo aver battuto gli altri cavaliere, se non molto molto forte, arriva Crystal per appunto salvare i suoi compagni. Quindi nel prossimo episodio ripartiremo dallo scontro contro scorpione. Quindi siamo già alla decima casa, se non erro, verso la fine di questa saga del santuario. Ragazzi, io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, commentate, condividete il video se volete far conoscere questo gioco veramente stupendo a tutti i vostri amici. Se non l'avete fatto, come sempre, iscrivetevi al canale, suggeritelo ai vostri amici, aiutate a farmi conoscere, perché ne avrei bisogno ora che comunque si iniziano a portare un po' di serie e il canale si è ben avviato. Qui Dangeone dell'83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!